Noi abbiamo rispetto alla Quaresima purtroppo una serie di esperienze precedenti che ci influenzano negativamente, perché quando ripensiamo alle nostre Quaresime quasi sempre quello che ci viene in mente è frustrazione e fallimento, perché se stiamo lì a guardare le cose che magari nei momenti buoni la maggior parte delle persone la Quaresima neanche la considera, va bene, anche dei bravi cristiani. Adesso se dovessimo fare un giro tra di noi e vedere chi di noi ha cominciato la Quaresima, è già cominciata, non è che comincia oggi, è cominciata mercoledì, cioè ha cominciato a lavorare, a decidere qualcosa, a cercare di costruire percorsi, non è che saremmo proprio tantissimi, anzi no, che sareste forse proprio tantissimi, perché la Quaresima è ignorata, ma forse proprio perché spesso è stato un tempo nel quale magari abbiamo provato a fare qualcosa e uno non ci siamo riusciti, perché dopo pochissimo abbiamo ricominciato a fare le cose di prima che avevamo deciso di abbandonare o abbiamo smesso di fare le cose nuove che avevamo deciso di mettere in campo, o peggio ancora abbiamo fatto tutta la Quaresima, ma proprio bravi bravi bravi, siamo arrivati in fondo con il nostro proposito portato a compimento mirabilmente e siamo peggiorati invece che migliorare. Perché accade? Accade nel momento in cui noi continuiamo a dire io, io decido che cosa devo fare, io porto avanti le mie cose in un certo modo, io, 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 cioè il tempo della Quaresima diventa una specie di parentesi nella nostra vita dove cerchiamo di superare il nostro limite. Ora, sta cosa qui va bene in palestra, dove continuano a dirti supera i tuoi limiti, ma mica nella vita normale e nella vita spirituale. Il problema nella vita spirituale è chiederci di che cosa abbiamo realmente bisogno, perché altrimenti invece che superare il nostro problema lo incentiviamo con certe scelte. Faccio un esempio banale, ma insomma voglio dire, la carità non intesa semplicemente come ti do due euro, come qualcosa di più serio, dire mi metto durante il tempo di Quaresima a fare dei gesti di carità seri, di incontro, va bene. Ora, se questa cosa serve per farmi sentire bene, in realtà io non sto facendo carità, io sto semplicemente usando del prossimo per sentirmi bene. Allora esteriormente faccio dei gesti bellissimi, ovviamente la gente mi guarderà e dirà, ma guarda che bravo, guarda che cose belle che fa. Io dentro invece appassirò, perché il gesto che sto compiendo, invece di essere ricerca dell'altro, tentativo di incontrarmi su un terreno che magari non è il mio, di vedere davvero l'altra persona come persona, beh insomma diventa semplicemente un modo per sentirmi bene, per tutte le cose che conosciamo bene, perché ci capita di farlo. Ora il problema non è non fare i gesti di carità, perché poi noi siamo dritti, siccome funziona così allora evito. No, non è quella lì l'indicazione, il problema è farli, ma cercando di trovare il modo giusto per farli. E il modo giusto è quello di chi si chiede di che cosa ho davvero bisogno per guarire, di chi lo chiede forse, meglio ancora. Se vi fa male un braccio e non sapete che cosa è successo, capita, voglio dire, qualche volta tentiva avanti per un po' e non riesci a muoverlo, ci sono problemi di varia natura, va bene. Ora tu hai bisogno di andare da qualcuno che ti dica qual è il problema vero, di andare da qualcun altro che ti dica adesso fai questi movimenti, fai queste cose, raggiunge questo obiettivo e tutte queste cose vengono decise da qualcun altro e consegnate a te, qualcuno di cui ti devi fidare. È chiaro che se vai da un dottore, gli dici mi fa male un braccio e in testa hai, tanto questo mi frega, poi non lo faccio, vabbè allora fai a meno, che ti costa anche meno. Ma nella quaresima noi siamo invitati non a essere quelli bravi che si sentono ancora più bravi perché fanno delle scelte strane e controcorrente, ma persone che invece si mettono in gioco e ricominciano ad ascoltare, ricominciano ad aprirsi a Dio e ai fratelli per capire qual è la malattia, non per guarirla già. Questo tempo della quaresima è quello che mi consente di riguardare quello che sono e di provare a chiedermi qual è il vero problema, perché a volte non è quello che ho in testa io, a volte il problema è un altro e se imparo ad ascoltare la parola di Dio, imparo ad ascoltare i fratelli, perché è l'incontro sul serio, mi accorgo di qual è il problema, allora poi avrò modo di lavorarci tutto l'anno, altrimenti non funziona mica questa cosa che in 40 giorni scarsi mi metto a fare il penitenti, a convertirmi e poi tutti gli altri no. Questo è un tempo nel quale insieme ci aiutiamo a capire qual è il problema e qual è la malattia e poi insieme ci aiuteremo nel corso dell'anno per cercare di risolverla e in questo possiamo crescere, altrimenti non funziona niente, altrimenti le cose non vanno come devono e questo tempo appunto diventa un tempo dove il nostro ego cresce invece che diminuire e dove alla fine rischiamo di fare più danni che acquistare benefici. Allora oggi noi vogliamo metterci di fronte al Signore e chiedergli la grazia di poter vivere questa quaresima ascoltando, ascoltando quello che ci dicono i fratelli, ascoltando quello che ci dice la parola di Dio, per cercare di capire qual è il vero problema che nella nostra vita ci impedisce di essere sul serio cristiani? Perché questo è il problema, che cosa ci sta impedendo di essere cristiani? Non part-time, cristiani sempre, comunque. Allora se questa è la domanda troveremo anche la risposta, perché è una domanda così Dio risponde e i fratelli, vi accorgerete, le risposte ce le daranno, non ci piaceranno tutte ma ce le daranno. Tempo di ascolto, questo è importante, tempo nel quale ci mettiamo in gioco e dove troviamo gli strumenti per poter poi ripartire, per poter vivere la nostra vita cristiana in modo pieno.